C'è stata la guerra, certo. Non me lo voglio ricordare da quanto era brutta. So che io ero sul terrazzo di casa mia e vedevo le bombe che cadevano. Mia papà che girava casa a casa per farci un coraggio. Tutto il paese era evacuato, l'ospedale crollato. Nel momento che entrarono i nazisti a Roma, siccome eravamo schedati, siamo passati tutti nella resistenza. Mi ricordo appunto alcuni tedeschi che insistevano di rimanere e poi tutto così, poi a tutto un tratto se ne andarono. Rimase un silenzio proprio. Ci rendevamo conto che il peggio era passato ed eravamo protese verso un futuro sicuramente migliore. Noi eravamo felicissime, noi donne, per poter andare a votare, che eravamo sempre state escluse. E non sembrava vero questa cosa, una grandissima festa. E poi con gli uomini dicevamo, cosa credete voi adesso? Adesso comandiamo qualche cosa anche noi. Non potevamo sbagliare o monarchia o repubblica. Io mi ricordo bene quando sono andata a votare questo sì. Questa lunga fila di donne e la fila degli uomini separati. Io, mia sorella, mia madre andammo appunto a votare e votammo monarchia. Bisognava stare attenti a non sporcare di rossetto la scheda, perché poteva essere invalidata. Io mi ricordo ho votato monarchia di sicuro. L'abbiamo vinta, appena appena, con la Repubblica. Bene l'importanza di quel voto. Forse io in quel momento non l'ho capita quanto lo capisco adesso. Nella storia con la S maiuscola c'è stata una specie di cancellazione del ruolo delle donne. La memoria storica è necessaria. E' anche vero che nella memoria c'è le cose che ti fanno ancora male e quelle non le vorresti. Va bene? Ma non è così. Ci sono. E basta. Sola me ne vò per la città. Solo un pasto fra la polla che non sa.